Un saluto dallo stadio Mario Colavolpe di Terracina dove tra poco andrà in scena la sfida valevole per la quindicesima giornata del Cirone B del campionato di eccellenza laziale tra Terracina e Roccasecca, tutto pronto per l'inizio della sfida. Lancio lungo di Cano, Selvini scatta sul filo del fuorigioco, attenzione a Selvini, siamo dentro l'area di rigore, Selvini contro Fusco, che parata con i piedi di Fusco. Oggi però ha la grandissima occasione di accorciare sul pomezzo la formazione di Pernarella, entra dentro l'area di rigore Bellante, 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 miracolo di Fusco con i piedi ancora una volta. Allargata la sfera dalle parti di Dagnese, sale Roma sulla destra, parte il cross, sossei lontano al pallone, attenzione a Proia, limite dell'area di rigore, parte il tiro, il gol! Il gol del Roccasecca con Carlini, Mancino di prima intenzione, che supera Alessio Campagna e Roccasecca in vantaggio. Fioretti, scatta Bellante, posizione regolare contro le portiere che Fusco, che ancora una volta frappone la sua figura tra il pallone e l'attaccante del Terracina. In bucata, dentro per Fioretti, attenzione a Fioretti, sterza, converge dentro l'area di rigore, calcio di rigore per il Terracina! Calcio di rigore per i Tigrotti, c'è stato il fallo del numero 5 Dagnese su Fioretti. Momento chiave della sfida. Va Fioretti, Terracina 1, Roccasecca 1, 25 metri, Cano, sinistro, palla dentro per Bellante, Bellante dentro l'area di rigore, cucchiaio, alto, ha provato una specie di tocco sotto con il piattone. Poi Spirito, siamo dentro l'area di rigore, pallone sulla destra, Spirito, tiro, fuori! Carlini, Fioretti, 25 metri, sinistro, deviato, calcio d'angolo. Romen anticipo di testa, pallone out, guarda il cronometro, il fischietto di Ciampino, pallone in rimessa laterale, ma non c'è più tempo. Finisce qui, finisce 1-1 al Mario Colavolpe, la sfida valevole per la quindicesima giornata del girone B di eccellenza tra Terracina e Roccasecca. Finisce qui, finisce qui, finisce qui, finisce qui.